Paola Ferrari, giornalista di Fama Rai, ha scatenato una tempesta sui social con un attacco diretto a Chiara Ferragni. Il post su Instagram in cui Ferrari prende di mira l'imprenditrice digitale ha suscitato reazioni contrastanti. La giornalista ha ironizzato sul cambio di obiettivi di Ferragni dopo difficoltà lavorative, suggerendo che si sia rifugiata in una relazione con un rampollo milanese. I commenti negativi non sono mancati, con molti che hanno criticato il tono sarcastico e giudicante di Ferrari. Alcuni hanno difeso la giornalista per il coraggio di esprimere le proprie opinioni, ma la maggior parte ha trovato il suo intervento cinico e inutile. Alcuni hanno sottolineato l'ironia del messaggio, considerando che Ferrari è sposata con un uomo facoltoso. Altri hanno notato un vizio della giornalista nel criticare altre donne, come già accaduto con Diletta Leotta e Delodi. Insomma, sembra che questa uscita di Paola Ferrari sia destinata a far discutere e a dividere le opinioni. Se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip, iscriviti al nostro canale.